Oh oh oh, ciao amici di Castiglione del Genovesi! Sono io, Babbo Natale, direttamente dalla fredda e incantata Lapponia. Avete mai visto tanta neve? Qui ne abbiamo a Bizzeffe! So che siete tutti lì per divertirvi, ma... ho una domanda importante per voi. Siete curiosi di sapere cosa faccio qui al Polo Nord tutto l'anno? E soprattutto, volete scoprire le sorprese che ho in serbo per voi quest'anno? Ho sentito dire che a Castiglione del Genovesi ci sono le bambine e i bambini più curiosi di tutto il mondo. È vero? Bene, perché ho preparato un racconto speciale per voi. Un racconto del mio magico viaggio dalla Lapponia fino al vostro bellissimo paese. Allora, siete pronti per un'avventura piena di magia, stelle scintillanti e naturalmente qualche sorpresa natalizia? Tenetevi forte, perché il viaggio sta per iniziare. Oh, oh, oh! Sapete, il mio viaggio da qui fino a Castiglione è stato davvero emozionante. Volando sopra le nuvole ho pensato a quanto sia speciale il vostro paese. È il luogo natale di Antonio Genovesi, una figura così importante. Dovreste essere orgogliosi di vivere in un posto così ricco di storia. Durante il mio viaggio sono rimasto incantato dalla bellezza di Castiglione. La fontana di Mastrocampo, per esempio, è un vero gioiello. E poi il Monte Tubenna? Oh, che vista mozzafiato! Mi sono fermato lì per qualche minuto con le mie renne, ammirando il panorama notturno sotto un cielo stellato incantato. Quest'anno ho mandato lì da voi a Castiglione, uno dei miei migliori aiutanti, perché il mondo è davvero grande e durante il periodo natalizio dobbiamo visitare tanti posti. Ma avete visto che casa hanno realizzato i ragazzi di Castiglione? Eh sì, sono stati più bravi dei miei elfi. Le mie renne, povere e stanche, si riposeranno la notte dell'Epifania, lasciando il testimone alla Befana. Ma avete trovato le caramelle e i cioccolatini che i miei elfi hanno incartato con tanto amore qui in Lapponia? Sapete, i miei elfi sono dei veri artisti nell'incartare dolcetti. Ogni cioccolatino è avvolto con un po' di magia natalizia. Loro dicono che ogni volta che scartate un cioccolatino, un elfo da qualche parte nel mondo sorride. Quindi, cari amici, tenete gli occhi aperti e la curiosità accesa. E non dimenticate, la magia del Natale è ovunque, basta solo crederci e condividere sorrisi con tutti. Oh, 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 buon Natale! E non dimenticate, cari bambini di Castiglione, studiate con impegno, ascoltate i vostri genitori, siate generosi e amichevoli. L'amicizia e il rispetto per le persone, le cose e gli animali sono tesori preziosi. E prendetevi cura del vostro meraviglioso paese, proprio come farebbe Antonio Genovese. Ora devo andare, ma ricordatevi di guardare il cielo nella notte di Natale. Potreste vedermi passare con la mia slitta. Un abbraccio a tutti voi da Babbo Natale. Buone feste, Castiglione del Genovese!